Buongiorno, buonasera a tutti. Procediamo con le nostre lezioni sul capitolo primo dei Promessi Sposi. Eravamo arrivati all'analisi del carattere e della storia di Don Abbondio. Manzoni, nelle righe precedenti, aveva fatto una panoramica di quella che era la realtà del tempo, una realtà fatta di soprusi in cui le leggi, che pure esistevano, non venivano rispettate, quindi mancava la certezza della pena. Ecco qui, si ritorna al personaggio di Don Abbondio e si scava in qualche modo nella sua psicologia. Leggiamo, come al solito, prima il testo e in seguito lo commentiamo. Il nostro Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, si era dunque accorto, prima quasi di toccare gli anni della discrezione, di essere in quella società come un vaso di terra cotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Aveva quindi assai di buon grado ubbidito ai parenti che lo vollero prete. Per dire la verità, non aveva gran fatto pensato agli obblighi ai nobili fini del ministero al quale si dedicava. Procacciarsi di che vivere con qualche agio e mettersi in una classe riverita e forte gli erano sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta. Ma una classe qualunque non protegge un individuo, non lo assicura che fino a un certo segno. Nessuno lo dispensa dal farsi un suo sistema particolare. Don Abbondio, assorbito continuamente nei pensieri della propria quiete, non si curava di quei vantaggi per ottenere i quali facesse bisogno di adoperarsi molto o da rischiarsi un poco. Il suo sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti e nel cedere in quelli che non poteva scansare. Neutralità disarmata in tutte le guerre che scoppiavano intorno a lui, dalle contese, allora frequentissime tra il clero e le potestalaiche, tra il militare e il civile, tra nobili e nobili, fino alle questioni tra due contadini, nate da una parola e decise coi pugni o con le coltellate. Se si trovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retroguardia e procurando di far vedere all'altro che egli non gli era volontariamente nemico. Pareva che gli dicesse «Ma perché non avete saputo essere voi il più forte, che io mi sarei messo dalla vostra parte?» Stando alla larga dai prepotenti, dissimulando le loro soverchierie passeggeri capricciose, corrispondendo con sommissioni a quelli che venissero da un'intenzione più seria e più meditata, costringendo a forza di inchini e di rispetto gioviale anche i più burberi e sdegnosi a fargli un sorriso quando li incontrava per strada, il povero uomo era riuscito a passare i sessant'anni senza gran burrasche. Non è però che non avesse anche lui il suo po' di fiele in corpo e quel continuo esercitar la pazienza, quel dar così spesso ragione agli altri, quei tanti bocconi amari, inghiottiti in silenzio, glielo avevano esacerbato a segno che, se non avesse di tanto in tanto potuto dargli un po' di sfogo, la sua salute ne avrebbe certamente sofferto. Ma siccome verano poi finalmente al mondo e vicino a lui persone che gli conosceva ben bene per incapaci di far male, così poteva con quelle sfogare qualche volta il malumore lungamente represso e cavarsi anche lui la voglia di essere un po' fantastico e di gridare a torto. Era poi un rigido censore degli uomini che non si regolavano come lui, quando però la censura potesse esercitarsi senza alcun anche lontano pericolo. Il battuto era almeno un imprudente. L'ammazzato era sempre stato un uomo torvido. A chi, messosi a sostenere le sue ragioni contro un potente, rimaneva col capo rotto, Don Abbondio sapeva trovare sempre qualche torto. Cosa non difficile, perché la ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto che ogni parte abbia soltanto dell'una o dell'altro. Soprattutto poi declamava contro quei suoi confratelli che, a loro rischio, prendeva le parti di un debole oppresso contro un soverchiatore potente. Questo chiamava un comprarsi gli impicci a contatti, un voler raddrizzare le gambe ai cani. Diceva, anche se veramente, che era un mischiarsi nelle cose profane, a danno della dignità del Sacro Ministero. E contro questi predicava, sempre però a quattro occhi, o in un piccolissimo crocchio, con tanto più di vehemenza, quanto più essi erano conosciuti per alieni dal risentirsi in cosa che li toccasse personalmente. Aveva poi una sua sentenza prediletta con la quale sigillava sempre i discorsi su queste materie. Che a un galantuomo, il quale badia a sé e stia nei suoi panni, non accadono mai brutti incontri. Ecco, questa è l'analisi del carattere e del modo di vivere di Don Abbondio. Il nostro Don Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso anche o meno, si era dunque accorto, prima ancora di diventare adulto, di essere nella società dell'epoca simile a un vaso di terracotta costretto a viaggiare, in un carro evidentemente, in compagnia di molti vasi di ferro. Un passo memorabile, molto famoso, dei Promessi Sposi, che si apre con questa triplice litote. Abbiamo già trovato la litote precedentemente, qua, Don Abbondio non era nato con un cuore di leone, nel senso, non era coraggioso, ok? Era anzi un fifone. La litote è quella figura retorica che consiste nel alleggerire un'affermazione proponendo la negazione opposta. Quindi anche qui Manzoni avrebbe potuto dire che il nostro Don Abbondio era povero e fifone. invece preferisce dire non nobile, non ricco, coraggioso, ancora meno. Ecco, il nostro Don Abbondio era simile, secondo Manzoni, a un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di vasi di ferro. Anzi, si era reso conto già prima di toccare gli anni della discrezione, cioè già prima di diventare adulto, si era reso conto, dicevo, di questa sua condizione, cioè di essere un debole. Si sentiva come un vaso di ceramica, di terracotta, in mezzo ai vasi di ferro. Cioè, il ferro evidentemente è più resistente e un vaso di terracotta che viaggia insieme ai vasi di ferro prima o poi viene distrutto. Prima o poi si rompe. Quindi gli uomini sono paragonati a vasi. Già Paolo Apostolo nelle sue lettere aveva fatto questo paragone, paragonando degli uomini e dei vasi. Ma questa idea che gli uomini si dividano in due categorie, uomini di coccio e uomini di ferro, cioè vasi di coccio e vasi di ferro, l'ha invece introdotta Manzoni, che l'ha appioppa al pensiero di Don Abbondio. Cioè Don Abbondio pensa a questo. ci sono alcuni uomini nati forti e altri nati deboli. Se una persona nasce debole, il coraggio da solo non se lo può dare. E quindi deve trovare dei meccanismi. Qui il primo escamotage che Don Abbondio mette in pratica per costruirsi una sorta di difesa in questa società ingiusta in cui lui si trovava ad essere dalla parte debole. Aveva assai di buon grado, cioè assai volentieri, ubbidito ai genitori, parenti sta per genitori, è un francesismo, che lo vollero prete. Cioè la sua vocazione, come quella anche della monaca di Monza, era stata già decisa dai genitori, ma lui contrariamente alla monaca di Monza aveva aderito di buon grado a questa decisione. Perché? Perché per dire la verità non aveva un granché pensato agli obblighi e ai nobili scopi del ministero sacerdotale al quale si dedicava. Gli era bastato come ragione sufficiente per tale scelta capire che questo ministero gli dava anzitutto un modo per procacciarsi di che vivere con qualche agio. Cioè un modo per vivere in un relativo benessere. Non certo per diventare un borghese, non certo per diventare un mobile, ma almeno per avere il pane da mangiare e un minimo di benessere. E in secondo luogo questo ministero lo collocava in una classe sociale riverita e forte. cioè non essendo forte lui si colloca in una classe sociale che è essa stessa forte e rispettata. Abbiamo visto nelle righe precedenti al passo che oggi leggiamo l'importanza delle classi sociali nella società dell'epoca. Ok? Con fraternite leghe, corporazioni, classi appunto le quali servivano per dare agli aderenti un maggior senso di protezione. Ecco, il clero era una di queste di queste classi. Ma una classe qualunque come il clero da sola non lo protegge un individuo e non lo assicura che fino a un certo punto. Cioè non è sufficiente far parte del clero per essere protetti e assicurati dai più forti. Nessuno dispensa l'individuo dal costruirsi un suo sistema particolare. Cioè non è sufficiente aderire a una certa classe ma è anche necessario che la persona si costruisca un suo sistema per restare lontano dai guai. E Don Abbondio effettivamente lo costruisce questo sistema. Cioè un modo di fare un comportamento che lui sempre mette in atto che possa proteggerlo da tutti i guai che eventualmente gli si possano presentare. Don Abbondio assorbito continuamente dall'ansia direi della propria quiete non si curava di quei vantaggi per ottenere i quali ci fosse bisogno di faticare o di correre un certo rischio. Cioè se per ottenere un minimo vantaggio fosse stato necessario un po' fosse stata necessaria un po' di fatica o fosse stato necessario un po' di rischio allora Don Abbondio rinunciava. Il suo sistema infatti consisteva principalmente eccolo qua qual è il sistema di Don Abbondio nello scansare tutti i contrasti come aveva fatto quei sassolini che incontrava per strada nel momento in cui lo abbiamo visto per la prima volta percorre il sentiero che poi lo avrebbe condotto verso i bravi trovava i sassolini e li calciava via per non inciampare. ecco la stessa cosa lui fa con tutti i contrasti che può trovare nella vita li evita non li affronta evitare i problemi azzinché affrontarli questo è il sistema di Don Abbondio e proprio quando ci si trova di fronte a un problema che non si può evitare cedere cedere cioè non voler mai aver ragione dare ragione all'altro quindi neutralità disarmata in tutte le guerre che scoppiava intorno a lui cioè se intorno a lui scoppiavano delle contese lui rimaneva neutrale e non prendeva posizione neutralità disarmata senza armi essere neutrali Dante definirebbe persone del genere degli ignavi cioè delle persone codarde che anche quando nel caso di una contesa una delle due parti fosse nel giusto tuttavia non si prende la parte del giusto per evitare problemi e noi oggi sappiamo quando questo comportamento indifferente possa essere negativo pensate ad esempio ai fenomeni di bullismo se c'è un episodio di bullismo in classe i compagni e le compagne che restano indifferenti per evitare di avere problemi sono in qualche modo corresponsabili di chi ha compiuto l'atto anche se loro stessi non lo hanno compiuto ecco perché un autore come lo scrittore irlandese George Bernard Shaw dice una frase così il peggior peccato verso i nostri simili non è odiarli ma essere indifferenti oppure il grande pensatore politico italiano Antonio Gramsci in un famoso panflet scrive io odio gli indifferenti cioè odio coloro che non sono partigiani cioè che non prendono una posizione ed è esattamente questo che manca a Don Abbondio prendere una posizione quando scoppiavano delle contese che allora erano frequentissime ad esempio tra il clero e i signori laici tra le autorità militari e le autorità civili tra un nobile e l'altro o anche le piccole questioni tra due contadini che magari nascono da una parola mal detta e finiscono ad essere decise coi pugni e con le coltellate ecco in tutti questi casi lui non prendeva mai le parti di nessuno anche se uno dei due stava dalla parte giusta e se poi si trovava assolutamente costretto a prendere parte tra i due contendenti perché a volte non puoi far finta di niente a volte sei costretto a prendere una delle due parti allora cosa fa cosa dice cosa prevede il sistema Don Abbondesco diciamo così prevede di stare col più forte sempre però in retroguardia vedete le metafore militari no? guerre che scoppiavano retroguardia sono tutte metafore che hanno a che fare con l'ambito semantico della guerra eh ma Don Abbondio a queste guerre non vuole partecipare quindi rimane sempre in retroguardia cioè tra coloro che non combattono ma rimangono nelle ultime file stavo col più forte dicevo sempre però alla retroguardia cioè senza prendere posizione esplicitamente anzi facendo vedere all'altro cioè la persona a cui era andato contro che egli non gli era volontariamente nemico sembrava che gli dicesse ma perché non hai saputo essere tu il più forte perché se fossi stato tu il più forte io mi sarei messo dalla tua parte cioè faceva un faccino come dire ma non è colpa mia se ho preso la posizione nei confronti di quell'altro è più forte lui cosa dovevo fare la prossima volta impara a essere più forte tu e vedrai che prendo la tua parte stando alla larga dai preputenti facendo finta di niente dissimulando di fronte ai loro soprusi temporanei e capricciosi eh facendo finta di niente quindi lui evita di condannare i soprusi attenzione che lui è un prete corrispondendo con sottomissioni a quei soprusi che venissero da intenzioni più serie e più meditate costringendo a forza di inchini e di sorrisetti gioviali anche le persone più burbere più sdegnose a fargli un sorriso quando li incontrava per strada ecco in tutti questi modi Don Abbondio era riuscito a passare i 60 anni adesso conosciamo anche l'età di Don Abbondio senza gran burrasche cioè senza che fosse capitato niente che lo sconvolgesse più di tanto fino ad oggi fino a questo novembre del 1628 in cui alla fine la burrasche è arrivata perché la burrasca la tempesta poi arriva per tutti avete capito cosa fa Don Abbondio sta alla larga dei prepotenti fa finta di niente di fronte ai loro soprusi e quando questi soprusi vengono da intenzioni serie e meditate si sottomette sommissioni e poi a forza di inchini adulatori rispetto ipocrita costringe un po' tutti anche i più burberi a fargli un sorriso è un atteggiamento un po' lecchino nei confronti dei potenti lecca piedi potremmo dire così e anche un po' ipocrita perché lui fa buon viso a cattivo gioco di fronte a tutti anche se magari nel cuore non li sopporta e li considera dei prepotenti in modo tale che questi gli sorridano e passino oltre e non gli diano guai è il tipico atteggiamento di chi non vuole guai un atteggiamento che però ripetiamo è un po' ipocrita perché nasconde dietro a un sorriso finto un atteggiamento interiore che è tutto diverso non è però che non avesse anche lui un po' di fiele in corpo che cos'è il fiele? il fiele è un liquido secreto dal fegato particolarmente amaro cioè non è che non avesse anche lui un po' di amarezza di fronte a tutte queste soperchierie tutti questi soprusi cioè sopporta 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 Don Abbondio ha un fegato così ok? e quel continuo esercitare la pazienza quel dar così spesso ragione agli altri quei tanti bocconi amari inghiottiti in silenzio avevano esacerbato a tal segno cioè a tal punto il suo corpo che se non avesse ogni tanto potuto dare un po' di sfogo a se stesso la sua salute avrebbe certamente sofferto di questa cosa qua Manzoni si dimostra un fine psicologo una persona che continua a sopportare se a un certo punto non si sfoga si ammala si ammala anche fisicamente Don Abbondio scusatemi Manzoni sembra conoscere le malattie psicosomatiche voi sapete che lo stress ad esempio può produrre danni anche di carattere fisico ecco allo stesso modo Don Abbondio a forza di sopportare si sarebbe ammalato anche fisicamente se non avesse avuto modo di sfogare un po' di quel suo fiele di quel suo amaro che aveva in corpo e d'altronde questo non poteva farlo nei confronti di quei potenti rispetto ai quali lui diceva sempre sì 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 si sottometteva o faceva buon viso a cattivo gioco tuttavia c'erano alla fine al mondo e vicino a lui persone che egli conosceva bene come incapaci di fare del male cioè non è che erano tutti dei prepotenti vicino a lui sapeva che intorno a lui c'erano anche persone che non avrebbero mai fatto male a una mosca così poteva con queste ultime sfogare qualche volta il malumore lungamente represso e anche lui con queste persone si poteva togliere lo sfizio di essere un po' fantastico e di gridare a torto cosa significa significa che con queste persone il curato poteva esercitare dei piccoli soprusi verbali blaterando a torto che questa è la tipica reazione di chi sempre deve reprimere i propri sentimenti che con le persone più deboli se la prende diciamo così con le persone più più deboli lamentandosi e blaterando a torto cosa faceva infatti era un rigido censore cioè criticone degli uomini che non si regolavano come lui quando però la censura potesse esercitarsi senza alcun anche lontano pericolo cioè lui criticava tutte le persone che non avevano il suo stesso sistema di vita certo le criticava solo se poteva criticarle senza pericolo altrimenti evidentemente non lo faceva facciamo degli esempi di queste critiche che Donalbondio rivolgeva agli altri una persona che era stata menata il battuto era quantomeno un imprudente l'ammazzato cioè la persona che era stata uccisa era sempre stato un uomo poco limpido torbido a chi si metteva a sostenere le sue ragioni contro un potente e rimaneva col capo rotto cioè poi le prendeva Donalbondio sapeva sempre trovare qualche torto cioè è colpa sua è un atteggiamento che riconosciamo anche al giorno d'oggi quando qualcuno subisce un danno è ma se l'è andata un po' a cercare è ma non doveva comportarsi così questa ragazza è stata molestata è ma non doveva vestirsi così questa persona è stata denigrata dal finanzato che ha diffuso i suoi video intimi sulla rete eh ma lei non avrebbe dovuto farli cioè ci è sempre in tempo a criticare le vittime come corresponsabili della loro violenza e Manzoni ci spiega anche il perché perché e questa è una frase molto importante di tipo morale è una delle tante eh espressioni riflessive che Manzoni inserisce nei suoi promessi sposi una riflessione valida per tutti valida universalmente anche per noi oggi perché facciamo così perché a volte accusiamo le vittime e perché possiamo farlo perché la ragione è il torto non si dividono mai con un taglio netto cosicché ogni parte abbia soltanto dell'uno dell'altro cioè la ragione non ce l'ha mai una persona sola un pochino di ragione ce lo può avere anche l'altro ok le ragioni e il torto non si distinguono mai in modo così netto questo non significa però che una delle due parti abbia gran parte della ragione e l'altra una minima parte della ragione però le persone possono appellarsi a questa minima parte di torto che ha la vittima per accusarla non è che Manzoni dice che sia giusto dice che le persone fanno così cioè è facile accusare la vittima perché se tu scavi nella vita di una persona è difficile non trovare che questa persona non abbia un torto tutti gli abbiamo i torti tutti noi abbiamo difetti tutti noi abbiamo sbagliato nella vita ok e quando subiamo un danno subiamo un torto se una persona che ci vuole accusare darci la colpa va a scavare scava scava qualche cosa di sbagliato trova anche in noi ecco cosa dice Manzoni soprattutto poi Don Abbondio declamava cioè criticava in modo esplicito contro quei suoi confratelli confratelli significa altri preti che a loro rischio prendevano le parti di un debole oppresso contro un potente che faceva soprusi e poi incontreremo dei personaggi del genere nei promessi sposi anzitutto diciamo così l'antitesi di Don Abbondio cioè il frate Cristoforo ecco lui ce l'aveva con quegli altri preti che gli mostravano in qualche modo cosa significasse effettivamente il ministero sacerdotale come sempre una persona che vede che gli altri sono meglio di lui ne parla male perché si sente intorto nei loro confronti quindi lui vede dei sacerdoti veri dei sacerdoti che esercitano con dedizione il proprio ministero fino a prendere le parti dei deboli contro i potenti ecco Don Abbondio anziché dire li ammiro vorrei essere come loro ma non ci riesco cosa fa li critica non potendo essere come loro li invidia criticandoli e questo prendere le parti dei deboli contro i potenti Don Abbondio lo chiamava un comprarsi gli impicce con tanti cioè pagare per avere dei guai un voler raddrizzare le gambe ai cani cioè il voler fare qualche cosa di completamente inutile perché sapete che i cani hanno le gambe le gambe storte non hanno le gambe dritte come le nostre e non è possibile raddrizzare le gambe a un cane ecco questo è un modo di dire milanese anche il poeta milanese contemporaneo di Manzoni Carlo Porta dice ok è un modo di dire per indicare il fare qualche cosa di del tutto inutile anzi che ti si rivolta contro perché se cerchi di raddrizzare le gambe il cane rimane menomato diceva anche severamente che questo agire socialmente era un immischiarsi nelle cose profane cioè nelle cose non divine di cui il sacerdote avrebbe dovuto occuparsi a danno della dignità del sacro ministero del prete cioè addirittura trova una ragione morale e teologica di queste sue critiche cioè il prete deve pensare a dire la messa e non a prendere le parti dei deboli nei confronti dei potenti evidentemente donabogno non aveva letto con molta attenzione del vangelo dove anzi si dice tutto l'opposto ok chissà che cosa avrebbe detto il papa attuale di fronte a questa affermazione papa che tra l'altro è un accanito lettore di manzoni che considera i promessi sposi tra i suoi libri preferiti e contro questi preti predicava però sempre a quattro occhi cioè sempre uno a uno o in un piccolissimo gruppo con tanta più veemenza cioè violenza verbale quanto più le persone con cui parlava fossero conosciute per essere estranee dal risentimento in cose che gli toccassero personalmente cioè criticava tanto più quanto l'interlocutore fosse una persona bonaria e indifferente alle critiche cioè se questo non ti diceva niente allora lo critichi se invece comincia a risentirsi allora lo critichi di meno perché perché ripeto lui non vuole avere guai quindi va a criticare solamente quelli che non gli rispondono aveva poi un suo motto prediletto con cui sigillava i sempre sigillava sempre cioè chiudeva sempre come con un sigillo i discorsi su queste materie cioè tutte le volte che parlava di queste cose chiudeva con questo motto e qual è questo motto che ha un galantuomo che bada a sé cioè una brava galantuomo dire brava persona che bada a sé che si fa i fatti suoi e sta nel suo non accadono mai brutti incontri ecco quello che dice Don Abbondio chi si fa i cavoli suoi campa cent'anni purtroppo purtroppo è un modo è un modo di dire ancora molto diffuso che in senso positivo potremmo dire che significa semplicemente non andare a spettegolare degli altri ma potrebbe anche essere interpretato come non prendere le posizioni di nessuno non impicciarti nelle contese anche quando chiaramente una delle due parti è nel giusto anche in questo caso il porta cioè questo poeta che scrive in milanese contemporaneo di Manzoni aveva pronunciato in una delle sue poesie una sentenza analoga in milanese quando ci sono questioni rogne tra qualcuno la regola generale è che io prendo il largo cioè evito di intervenire chi si fa i fatti suoi questa è la conclusione di ogni discorso di Don Abbondio continuiamo con la lettura pensino ora i miei 25 lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto quello che si è raccontato lo spavento di quei visacci e di quelle parolacce la minaccia ad un signore noto per non minacciare nessuno in vano un sistema di quieto vivere che era costato tanti anni di studio di pazienza sconcertato in un punto e un passo dal quale non si poteva vedere come uscirne tutti questi pensieri ronzavano tumultuariamente nel capobasso di Don Abbondio se Renzo si potesse mandare in pace con un bel no via ma vorrà delle ragioni e cosa ho da rispondergli per amol del cielo e anche costui è una testa un agnello se nessuno lo tocca ma se uno vuol contraddirgli e poi e poi perduto dietro a quella Lucia innamorato come ragazzacci che per non sapere che fare si innamorano vogliono meritarsi e non pensano ad altro non si fanno carico dei travagli in che mettono un povero galantuomo oh povero me vedete se quelle due faguracce dovevano proprio piantarsi sulla mia strada e prendersela con me ma che centro io sono io che voglio maritarmi perché non sono andati piuttosto a parlare oh vedete un gran poco un gran destino è il mio che le cose a proposito mi vengano sempre in mente un momento dopo l'occasione se avessi pensato si suggerir loro a che andassimo a portare la loro ambasciata ma ma a questo punto si accorse che il pentirsi di non essere stato consigliere e cooperatore dell'iniquità era cosa troppo iniqua e rivolse tutta la stizza dei suoi pensieri contro quell'altro che veniva così a togliergli la pace non conosceva Don Rodrigo che di vista e di fama ne aveva mai avuto a che far con lui altro che di toccare il petto col mento e la terra con la punta del suo cappello quelle poche volte che l'aveva incontrato per strada gli era corso di difendere in più di un'occasione la riputazione di quel signore contro coloro che a bassa voce sospirando e alzando gli occhi al cielo maledicevano qualche suo fatto aveva detto cento volte che era un rispettabile cavaliere ma in quel momento gli diede in cuor suo tutti quei titoli che non aveva mai udito applicargli da altri senza interrompere in fretta con un oibo giunto tra il tumulto di questi pensieri e la porta di casa sua che era in fondo al paesello mise in fretta nella toppa la chiave che già teneva in mano aprì entrò richiuso diligentemente e ansioso di trovarsi in una compagnia fidata chiamò subito perpetua perpetua avviandosi verso il salotto dove questa doveva essere certamente ad apparecchiare la tavola per la cena era perpetua come non si avvede la serva di don abbondio servo affezionata e fedele che sapeva ubbidire e comandare secondo l'occasione tollerare a tempo il brontolio e le fantasticaggini del padrone e fargli a tempo tollerare le proprie che divenivano di giorno in giorno più frequenti da che aveva passata l'età sinodale dei 40 rimanendo celibe per aver rifiutati tutti i partiti che le si erano offerti come diceva lei o per non aver mai trovato un cane che la volesse come dicevano le sue amiche ecco Manzoni qua parla dei suoi 25 lettori si immagina che solo in 25 leggeranno il Promessi Sposi quindi si sta rivolgendo ai suoi eventuali lettori contando nel numero in 25 lui sa benissimo che i lettori dei Promessi Sposi saranno molti di più ma usa questi 25 lettori per umiltà oggi diremmo per understatement quindi pensino ora i miei lettori che impressione dovesse sfarene sull'animo di quel povero uomo ciò che si è raccontato lo spavento di quei visacci e di quelle parolacce ecco qua Manzoni vedete che in qualche modo focalizza la narrazione sui pensieri di Don Abbondio perché è lui che userebbe questi termini dispregiativi non visi ma visacci non parole ma parolacce è Don Abbondio che in questo momento sta pensando non Manzoni la minaccia di un signore noto per non minacciare in vano cioè nel senso che tutte le minacce di Don Rodrigo andavano ad effetto e questo è quello a cui pensava lo suo spavento le minacce che andranno ad effetto e poi tutto il suo sistema di vivere quieto che gli era costato tanti anni di studio di pazienza che era scato in un attimo sconvolto è una situazione dal quale dalla quale non si vedeva come si potesse uscire ecco erano questi tutti i pensieri che ronzavano tumultuosamente in Don Abbondio che ovviamente teneva il capo basso pensate l'ansia che lui vive in questo momento e qua Manzoni cita quali sono le parole che Don Abbondio pronuncia ad alta voce tra sé e sé è una sorta di monologo o di soliloquio di Don Abbondio soliloquio perché sta parlando da solo e cosa dice vedete che si aprono le virgolette qua se Renzo si potesse mandare in pace con un bel no via ma no vorrà delle ragioni Renzo e io cosa posso rispondergli per amol del cielo e incomincia ad accusare Renzo che poverino non c'entra niente perché è è innervosito è stizzito e ovviamente se la prende con chi non c'entra come tutte le persone nervose e è anche costui è una testa calda è un agnello cioè è un buon uomo se nessuno lo tocca ma se uno lo contraddice oh e poi perduto a quella Lucia dietro a quella Lucia innamorato come e qua abbiamo i puntini di sospensione perché i pensieri non sempre terminano no aposiopesi si chiama come figura retorica cioè un ragionamento che non termina che a un certo punto rimane sospeso aposiopesi cioè silenzio sospensione del del discorso ragazzacci che per non sapere che fare si innamorano vogliono sposarsi e non pensano ad altro e non pensano alle difficoltà in cui mettono un povero uomo come me e qua se la prende Correnza e Lucia che non hanno nessuna colpa se non quella di essersi innamorati e di volersi sposare cosa del tutto naturale di cui il curato dovrebbe essere ben felice e invece questi diventano ragazzacci cioè li tratta come se fossero i bravi di cui aveva scorto i visacci e sentito le parolacce e questi li chiama ragazzacci ma perché si innamorano che poi ci vado di mezzo io ma non possono rimanere single vedi lui se la prende un po' con tutti anche con chi non c'entra è un atteggiamento che conosciamo molto bene quante persone che abbiamo conosciuto si comportano in questo modo e se la prendono con quelli che non gli hanno fatto niente solo perché sono ansiosi o nervosi oh povero me vedete se quelle figuracce di nuovo un dispregiativo ormai il quarto dovevano proprio piantarsi sulla mia strada e prendersela con me che c'entro io sono io che voglio sposarmi se avessi pensato di suggerire di andare a dirlo a e non dice chi se avessi pensato di suggerire loro che andassero a dirlo magari direttamente al signore del luogo ad o rodrigo o di rivolgersi a un altro prete ma a questo punto si accorse che era cosa troppo ingiusta iniqua pentirsi di non essere stato un consigliere cooperatore dell'ingiustizia cioè anche lui ha dei limiti e quindi si accorge che il suo ragionamento è andato troppo oltre cioè che in questo momento quasi si sta pentendo di non aver commesso un'ingiustizia e quindi non riesce a sopportare di essere così ingiusto non riesce a sopportare questo pensiero e quindi rivolge tutta la sua stizza tutto il suo nervosismo è contro quell'altra persona che veniva così a togliergli la sua pace chi era quest'altra persona ovviamente Don Rodrigo quindi sentendosi un po' in colpa di accusare Renzo e Lucia incomincia con i pensieri a insultare Don Rodrigo mica ovviamente ad alta voce lui sta pensando lui non conosceva Don Rodrigo che di vista e di fama e non aveva mai avuto a che fare con lui se non che aveva toccato il petto col mento e la terra con la punta del cappello tutte quelle volte poche che l'aveva incontrato per strada e cosa significa? Significa che si era inchinato in un modo così ossequioso così esagerato che aveva toccato la terra col cappello e il petto col mento aveva fatto dei mega inchini giusto per dire io ti sono sottomesso e sappiamo che lui lecca piedi è un modo per ringraziarsi i potenti era fare degli inchini ogni tanto gli era capitato di difendere in qualche occasione la reputazione di quel signore contro coloro contadini probabilmente che a bassa voce con sospiri o alzando gli occhi al cielo male dicevano qualche subazione aveva detto cento volte che era un cavaliere rispettabile cioè di fronte agli altri che lo criticavano per qualche malefatta aveva detto no è una persona rispettabile figuratevi perché ovviamente lui non vuole fare la figura di quello che ce l'ha con Doro Rodrigo metti che qualcuno viene a saperlo e poi glielo riferisce e no lui non vuole guai ma in quel momento diede a Doro Grillo in cuor suo quindi con la mente mica d'alta voce tutti quei titoli nel senso di improperi lo sta insultando con la testa che non aveva mai sentito dargli dagli altri senza interrompere in fretta con un oibo cioè se qualcuno aveva detto quel porco di Doro Rodrigo lui aveva detto oh oh non si dicono queste cose è un rispettabile cavaliere ma adesso le pensa tutte queste cose qua giunto nel tumulto di questi pensieri la porta di casa sua che era in fondo al paese mise in fretta nella toppa la chiave che già teneva in mano aprì entrò richiuso diligentemente cioè fa i gesti che lui sempre fa normalmente perché sapete che lui è un abitudinario e ansioso di trovarsi insieme a qualcuno difidato chiamo subito perpetua perpetua e si avvia verso il salotto dove probabilmente questa perpetua si trovava ad apparecchiare la tavola per la cena perché vi ricordate che era sera perpetua come ognuno si rende conto era la serva di Don Abbondio oggi diremmo appunto la perpetua del prete ecco Manzoni è un autore così famoso che è capitato in Manzoni quello che capita solo per personaggi famosissimi cioè che un nome proprio diventa un nome comune ecco la perpetua oggi è la colf diciamo così la collaboratrice domestica di un prete si chiama proprio così la perpetua come nome comune ma questo nome comune viene dal nome proprio di questa donna che si chiamava era stata battezzata così perpetua e poi vedremo il carattere di questa perpetua cerchiamo di individuarlo nelle righe successive che poi leggeremo la prossima volta per adesso ci basti sapere che era una serva affezionata e fedele che sapeva ubbidire e comandare secondo l'occasione sapete che le persone che vivono con il datore di lavoro no le colf le donne di servizio che vivono il datore di lavoro per molto tempo a un certo punto non solo obbediscono ma anche comandano ma sono anche amiche e sapeva tollerare a un tempo i brontolio e le ossessioni fantastiche del padrone che era un po' ossessivo compulsivo l'abbiamo capito quindi chissà quante volte si immaginava che gli succedessero le peggio cose e chissà quante volte si lamentava abbrontolandosi e fargli a tempo tollerare le proprie cioè ogni tanto anche lei aveva le sue lamentele scusate è andato via che diventavano ogni giorno più frequenti le lamentele di perpetua da quando aveva passato l'età sinodale dei 40 cioè da quando aveva passato i 40 anni cioè stava invecchiando la chiama età sinodale in quanto c'era stato un sinodo cioè una riunione di curia a Milano la quale aveva imposto alle serve dei preti di essere di età superiore ai 40 anni per evitare che ci fossero delle ragazze e la gente potesse pensare male o potesse nascere una relazione tra il prete e la ragazza e lei era rimasta celibe noi oggi però diremmo nubile essendo una donna per avere rifiutato tutti i partiti cioè gli uomini che gli essi erano offerti o almeno questo è quello che diceva lei cioè che aveva rifiutato tutti ma le amiche dicevano che lei non aveva mai trovato un cane che la volesse bene ci sta già simpatico questo personaggio di perpetua la prossima volta vedremo il dialogo che intercorre tra perpetua e donaboglio grazie dell'attenzione saluto tutti e tutte caramente grazie a tutti